Se avete aperto Wibble Wobble, oggi avrete visto che il 31 maggio i server europei e americani vanno offline. Evidentemente, Yooki Watch, Wibble Wobble, o meglio, tutto il brand di Yooki Watch, non sta avendo questo grande successo che la Level 5 e NHN si aspettavano nel continente occidentale. Purtroppo, non sembra essere un pesce d'aprile perché l'hanno pubblicato il 2 aprile, a meno che davvero non sia un pesce in ritardo, che domani uno apre il gioco tutto quanto a posto. Invece, no, sembra proprio una notizia fondata e quindi niente, i server occidentali chiudono, rimangono aperti solo i server giapponesi e niente, ce la prendiamo in saccoccia. Non è che sono arrabbiato cose simili, però quello che mi dà fastidio, perché è una cosa che dà molto fastidio, è che c'è gente che ci ha speso i soldi veri, c'è gente che ci passava le giornate interi a grindare, a farmare, a giocare. Io addirittura ci ho passato diversi giorni sopra senza produrre nulla e proprio l'altro giorno ho speso 200 spiriti, che avevo comunque sia guadagnato tramite gli altri che me li mandavano, per cercare di reclutare Restat e ce l'ho fatta, ma dopo 200 spiriti, insomma, sono ore di gioco. Se ci fosse stata una maniera di trasferire i file di salvataggio da Yookay Watch, Wibble Wobble a PuniPuni, avrei magari continuato a giocare, ma in queste condizioni no. Non ho voglia di ricominciare da zero, rifare tutti quanti i livelli, provare a reclutare un'altra volta gli stessi Yooka che poi magari non escono neanche, e non c'ho voglia di ricominciare un'altra volta da zero. Purtroppo è troppo lunga la cosa e quindi se davvero succede che chiudono i server e non è un pesce d'aprile, il ritardo ovviamente, e niente, finisce Wibble Wobble. Io proverò a vedere comunque sia se succede qualcosa, se davvero è uno scherzo, cose varie. Se è uno scherzo, continuo a portare i video, se non è uno scherzo, Wibble Wobble, bye bye, ci sentiamo. Vedremo come vanno le cose, se... Comunque sia, è fastidiosa, molto fastidiosa la cosa se si rivelasse vera. E questo potrebbe significare che non porteranno mai Yookay Watch 3 da noi occidentali. E questo potrebbe essere un'altra cosa se si rivelasse,